In questo video troviamo Andrea Di Pre di sare l'uomo del momento, ovvero il rapper Fedez Ex, fino ovviamente a prova che possa far comprendere il contrario, dichiara Ferragni In questo video chiedete ad Alexa chi è più famoso a livello mondiale L'avevo fatto Andrea Di Pre o il Fedez? La risposta di Alexa è sorprendente Ma voi dovete essere altrettanto sorprendenti iscrivendovi in questo canale Attivando la campanellina delle notifiche E soprattutto condividendo e commentando il video E mettere un like o un dislike Fatelo, ma prima guardatevi la sigla Ciao Alexa, Andrea Di Pre è più conosciuto di Fedez a livello mondiale? Ecco una risposta di un utente Alexa Answers che ho tradotto Sì, lo è Sì, lo è